Si chiama Pasquale Lettieri, il 19enne di Rofrano, morto mentre faceva il bagno presso la spiaggia delle Saline di Palinuro. Il giovane si era tuffato con un amico nonostante le condizioni del mare non fossero ottimali. Una volta accortisi delle difficoltà, i due giovani hanno provato a rientrare, ma solo uno dei due è riuscito a raggiungere la riva e a chiamare i soccorsi. Purtroppo era troppo tardi, poiché il 19enne era stato già trascinato a largo dalla corrente. Per ore, gli uomini della Capitaneria di Porto di Palinuro, diretti dal comandante Giovanni Paolo Arcangeli, hanno cercato il corpo del ragazzo, localizzato tempo dopo sotto costa. Sul posto anche i vigili del fuoco. Le operazioni per recuperare il corpo sono andate avanti fino a tardanotta.